Si è appena conclusa la prima giornata di campionato di Serie B1, Coveme che si è imposta per 3-7 a 0 nel confronto di Bastia Umbra, sono in compagnia di coach Claudio Casadio. Claudio, sono arrivati i primi tre punti, Coveme che appunto si è imposta 3-0, abbiamo visto anche dei momenti difficili nel secondo set ma nei quali siete usciti molto bene, le risposte sono arrivate anche dalle giovani come abbiamo visto Ilaria Casini che è subentrata nel corso della partita. Sì, dunque, intanto sicuramente la cosa che ho detto alle ragazze eravamo pronti per fare una partita anche difficile, però da qui ad aspettarselo sul serio che il Bastia sarebbe stata una squadra così ostica, coriacea, non era facile prevederlo. E' chiaro che quando prepari le gare noi cerchiamo di prepararle sempre bene, devi avere del materiale a disposizione, però nella prima di campionato ci sta che hai visto le altre in qualche torneo, contro squadre così così, con formazioni rimaneggiate per fare esperimenti. Ripeto, eravamo pronti ma ci siamo trovati un avversario, sembravano in otto in campo, grande difesa, tiravano forte, siamo stati bravi a mettere dentro quel set lì iniziale, però non bastava, abbiamo vinto un set così dove già la palla sembrava insaponata, ma facevi fatica, ma l'abbiamo vinto. Però andati al secondo set ancora peggio, siamo pariti otto a tre, sembravano irraggiungibili, però un po' alla volta, un po' alla volta, ho fatto anche due innesti, ho messo dentro Chiara Lombardi e Lara Casini che è andato in loro a porto, perché siamo una squadra, questo lo posso dire, ragazzi sono state squadra oggi fino in fondo e sicuramente hanno aiutato a cambiare un po' la Chiara per magari la compattezza muro, non che dopo abbiamo murato tantissimo, però ha avuto una compattezza, ha fatto dei bei primi tempi. La Casini è molto pronta in difesa, discreta in attacco, bene imbattuta, però soprattutto hanno avuto forse più, hanno portato un po' di spirito nuovo dentro il sestetto. Nella parità di oggi mi tengo soprattutto queste cose, mi tengo la reazione, mi tengo che siamo usciti veramente da una buca difficile, però bisognerà giocare molto meglio se speriamo di ambire a posizione di vertice. Ecco, questa settimana, ricordiamo già da domani, su cosa lavorerete prevalentemente e per te cosa c'è da migliorare? Ma è molto facile, penso che chiunque abbia visto la differenza tra noi e gli altri in difesa, noi siamo contro determinati tipi di attaccanti che ti fanno colpi, pallette, insomma non siamo una squadra così forte in difesa, e siamo forti in tanti altri reparti, possiamo essere uno squadrone se cresciamo anche nel fondamentale di difesa. Quindi questo è un motivo di orgoglio, prendiamolo come un motivo per dare di più, perché se cresciamo nel contrattacco possiamo diventare una squadra veramente molto forte. Quindi ringrazio il coach Claudio Casadio, ricordiamo Coveme che si aggiudica la prima partita di campionato per 3 a 0.